oggi vi presento il mio piccolo kit di sopravvivenza questo ragazzi non deve mancare mai la prima cosa che voglio farvi vedere è la tensione della batteria quindi utilizzeremo il mio tester e andremo a controllare la tensione 12,12 volt è una tensione sufficiente per mettere in moto l'auto ma visto che voglio farvi vedere in pratica cosa faccio nel momento in cui la batteria dovesse risultare scarica e mi succede spesso soprattutto quando lascio la macchina ferma magari due tre settimane non ce la fa a mettere in moto e allora come ho risolto il problema beh uso questa piccola power station che è la bluetti elite 30 600 watt 288 watt di energia accumulata e vi faccio vedere come riesce a reggere benissimo un caricabatterie per la macchina quindi bluetti è il mio caricabatterie questo è un black and decker che ormai ha quasi 20 anni la cosa importante da controllare sempre è che abbia una corrente abbastanza alta questo un 30 ampere e 80 per anche per fare l'accensione veloce io normalmente uso sempre i 30 ampere che sono più che sufficienti per rianimare la batteria e riuscire a mettere in moto la macchina questo d'inverno mi ha salvato la vita tantissime volte adesso vi mostro come lo vado a collegare togliamo il tester appoggiamolo qui cavo di alimentazione andiamo a collegarla sulla nostra piccola bluetti accendiamo la bluetti o il 62 per cento di batteria in questo momento consumi sono a zero e le uscite sono disattivate posso già andare attivare l'uscita ma preferisco prima a collegare la batteria il rosso sul positivo e nero sul negativo a questo punto accendo la bluetti è entrata la tensione 230 volt sta facendo l'analisi in questo momento è partita la carica come vedete la batteria adesso era intorno al 40 per cento però comincia a salire sale anche molto velocemente siamo già arrivati a 14.6 quindi la tensione massima di carica andiamo a controllare quanti ampere sto caricando aspettiamo che faccia la calibrazione ok e su auto andiamo a metterlo sulla corrente continua e proviamo su un cavo 35 ampere ovviamente se faccio qui la stessa cosa 35 ampere prima di far partire l'auto vediamo quanta energia può davvero dare una power station l'obiettivo è capire se abbastanza energia per riportare la batteria dell'auto sopra la soglia di avviamento sono solo due minuti di teoria poi torniamo subito al cofano questa power station ha 288 watt ora di capacità i watt ora indicano quanta energia totale può erogare non la potenza istantanea la potenza istantanea della nostra bluetti elite 30 v2 è di 600 watt anzi sarebbe la potenza continua quella istantanea 1500 watt e dopo vedremo a cosa ci serve questo valore per capire quanto tempo riesce a tenere acceso il caricabatterie usiamo la formula tempo uguale watt ora fratto cioè diviso watt se il caricabatterie assorbe circa 450 watt 288 diviso 450 fa 0,6 ore cioè 35 40 minuti nelle realtà però perdiamo sempre un po di energia tra inverter e caricabatterie la power station converte i suoi 12 15 volt interni in 230 volt qui c'è già una piccola prima perdita il caricabatterie poi riconverte quei 230 volt nei 12 14 volt per caricare di nuovo la batteria e qui c'è una seconda perdita sommando tutto perdiamo circa i 10 15 per cento di energia ecco perché da quei 288 watt ora scendiamo a circa 250 watt ora utili ed è proprio con questi 250 watt ora che calcoliamo i 20 ampere trasferibili alla nostra batteria dell'auto da qui convertiamo i watt ora in ampere ora ampere ora uguale watt ora diviso volt 250 watt ora diviso 12 volt fa poco più di 20 ampere ora questi 20 ampere ora sono l'energia reale che possiamo reinserire nella batteria dell'auto e valgono in modo diverso a seconda della batteria su una 50 60 ampere e quasi metà carica su una 100 120 ampere e una percentuale più piccola la logica però è la stessa con qualsiasi power station basta rifare gli stessi identici calcoli i 20 ampere trasferibili non cambiano quello che cambia è solo il tempo necessario per spostarli la formula è semplice tempo uguale ampere ora da trasferire ampere dei caricabatterie con un caricabatterie da 10 ampere servono quasi due ore con 20 ampere ci vuole un'ora con 30 ampere circa una quarantina di minuti come nel mio caso un caricabatterie più potente accelera il processo ma non aggiunge energia sposta sempre gli stessi 20 ampere ora per questo motivo anche i caricabatterie da 10 15 ampere vanno benissimo per un'emergenza del genere con 250 watt utili otteniamo circa 20 ampere questo è il valore che ci interessa davvero non è un valore teorico e la quantità di energia che la power station riesce a spostare prima di scaricarsi su batterie piccole l'effetto è molto forte su batterie grandi ovviamente si sente meno la cosa importante è capire la proporzione tra energia disponibile e capacità della batteria in un'emergenza non dobbiamo riempire portare al 100 per cento tutta la batteria basta riportarla sopra la soglia minima per avviare un motore benzina non serve una batteria piena basta superare gli 11,8 12 volt se la batteria è in buone condizioni quei 20 ampere spesso bastano per raggiungere quella soglia lo spunto dura appena 1 2 secondi serve energia concentrata non la ricarica completa della batteria se la batteria però ha una resistenza interna ed è molto usurata potrebbe volerci molta più energia per ripartire finora abbiamo fatto numeri puliti ma nella vita reale conta moltissimo lo stato della batteria dell'auto la differenza la fa la resistenza interna una batteria nuova ce la bassa e riesce a dare lo spunto subito una batteria vecchia invece ha resistenza interna alta sotto sforzo la tensione crolla e lo spunto non arriva in quei casi anche i 20 ampere possono non bastare serve riportarla molto più in su di tensione quasi con una carica completa ma in quei casi è semplicemente opportuno cambiare la batteria su una batteria recente invece quei 20 ampere sono sufficienti per superare la soglia e dare corrente per quel 1 2 secondi che servono di spunto ecco perché due auto identiche possono avere risultati completamente diversi nel stesso test direi che la parte teorica è chiara torniamo al cofano colleghiamo tutto e vediamo se con questa piccola power station della bluetti riusciamo davvero a far ripartire la mia auto ora viene alla parte interessante il test sul campo in questo momento io sto utilizzando il mio caricatore collegato su questa bluetti e stiamo consumando 568 watt qua vediamo come sta caricando siamo già intorno al 60 per cento e adesso controlliamo con il voltmetro anche la tensione che abbiamo qui sui poli 14 volt e 32 la batteria in perfetta carica qui abbiamo la batteria collegata con il nostro carica batteria e la bluetti in questo momento è calata un po la potenza siamo a 432 watt ma questo perché lui quando arriva a 14,4 volt automaticamente abbassa la potenza d'uscita lo lasceremo ancora una decina di minuti e sicuramente la macchina andrà tranquillamente in moto proviamo quindi a vedere se effettivamente la macchina va in moto cosa ditte andiamo a spegnere il nostro caricatore lo possiamo fare qui direttamente dalla bluetti togliamo i cavi l'alimentazione prendiamo la bluetti la spegniamo test riuscito la macchina andata in moto tutto ok l'abbiamo vista all'opera in azione è riuscita a mettere in moto la macchina vediamo un attimo le caratteristiche generali di questa macchina abbiamo un peso di 4,3 kg in pratica è veramente molto leggera si solleva facilmente e come dimensioni siamo 250 mm di larghezza 178 mm di profondità e 167 mm di altezza molto compatta molto piccola comunque con una discreta energia e anche possibilità di utilizzo 600 watt di uso continuo con l'inverter a 230 volt 1500 watt di spunto questo cosa vuol dire che se abbiamo un utensile per esempio un trappano una sega elettrica che ha uno spunto elevato questa macchina riesce comunque a gestirla dopo ovviamente nell'uso continuo deve avere una potenza massima intorno ai 600 watt se no le protezioni della macchina la faranno spegnere le prese usb c hanno 140 watt di uscita massima le usb a hanno 15 watt per ciascun canale quindi in totale 30 watt l'uscita socket da 12 volt porta fino a 10 ampere l'ingresso ca dei 230 volt per la ricarica arriva fino a 980 watt l'ingresso solare invece 12 28 volt per un massimo di 200 watt o 10 ampere andiamo a vedere com'è fatta anche dalle altre parti qui ci sono le ventole di raffreddamento display ci indica la capacità residua della macchina e per quanto tempo con l'assorbimento che abbiamo in quel momento riusciamo a tenerla accesa quindi lei ci darà già una stima di quanto tempo ancora potremo utilizzare quello che stiamo utilizzando in questo momento questo è l'output che ovviamente è a zero perché non stiamo consumando nulla anche se l'invertere acceso anzi andiamo proprio a spegnerlo se attiviamo la parte di sì ovviamente avremo attive queste quattro prese più il socket 12 volt andiamo a vedere l'applicazione cosa si riesce a fare con l'applicazione andiamo sui miei dispositivi come vedete non c'è andiamo a installare subito la nostra elite 30 sulla nostra applicazione della bluetti andiamo su scansiona qui dietro abbiamo un QR code vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco ok mi dà l'associazione fatta vado a selezionare anche la rete wifi diciamogli di sì metto il nome della mia connessione wifi ora si è connessa andiamo avanti questo è il nome del dispositivo perfetto adesso ci connettiamo col dispositivo e andiamo a leggere in pratica tutto quello che abbiamo qui sul display ce l'abbiamo anche sull'app come vedete sto tirando da 200 watt dalla rete non sto consumando niente però il dc è acceso per accendere e spegnere questi servizi posso farlo direttamente da remoto basta avere la macchina collegata al proprio router e io da qualsiasi parte del mondo tramite il mio telefonino se ho una connessione internet posso andare a fare queste cose nel momento in cui lascio la macchina accesa se la vado a spegnere ovviamente si spegne anche bluetooth e non trovo più nulla però se la sto utilizzando in modalità ups dopo vi spiegherò meglio che cos'è è molto comoda questa cosa perché io posso accendere a distanza per esempio una piccola stufa all'interno della cabina di un van di un camper oppure di una barca una stufa che può essere sia a 230 volt oppure a 12 volt è chiaro che deve essere comunque anche lei connessa a una linea elettrica ma se io ho la linea banchina o semplicemente il mio camper è collegato sulla presa del garage io ho bisogno di accendere un'utenza con questo sistema è come se avessi un telecomando adesso andiamo a vedere 54 minuti con questa potenza per caricarla completamente ovviamente non l'ho mai collegata a un pannello solare andiamo sulle impostazioni avanzate vediamo un po in questo momento è in modalità ups standard posso scegliere anche un'altra modalità ma a me va bene questa perché esiste l'ups con priorità fotovoltaica controllo orario dell'ups gruppo di continuità personalizzato ha veramente tantissime funzioni dopo se uno vuole andare nel dettaglio deve scaricare il manuale e andarsi a leggere tutte le varie funzionalità c'è la funzionalità powerlifting cosa vuol dire vuol dire riuscire a recuperare proprio quei 1500 watt di picco di spunto questo mi fa consumare un po più anche in standby l'inverter però se ho un utensile particolarmente energivoro andrò a utilizzare questa modalità modalità di ricarica questa è una cosa molto importante adesso è standard comunque non fa nessun rumore io non sento nessun tipo di ventola ho la possibilità di passare anche al turbo questo vuol dire aumentare la potenza in ingresso questo può diventare importante nel momento in cui dobbiamo ricaricare in fretta la nostra power station vediamo quanto tempo ci metterà così aspettiamo che aggiorni i dati sono 380 watt dalla rete in questo momento il tempo di ricarica è 24 minuti come vedete ha praticamente dimezzato il tempo di ricarica quella potenza totale che vi dicevo all'inizio è determinata sia dall'ingresso solare più la rete quindi in realtà la rete al massimo riesco a prelevare 380 watt vista la potenza di questa macchina nel complesso è una cosa giusta perché andarla a caricare comunque di più rischio di deteriorare magari un po prima le celle anche se sono comunque celle che durano dai 3 ai 5000 volte quindi veramente una durata di 10 anni ovviamente questa macchina non è solo di questo colore andate in descrizione trovate il link vi porterà direttamente sul sito delle bluetti dove troverete tutte le informazioni e anche il prezzo e potete scegliere anche il colore che più vi piace ci vediamo alla prossima